alexa sono a casa alexa buonasera alexa alexa cosa hai niente allora perché non mi hai salutato poderak cosa hai in quella busta in che busta intendi questa e che vuoi che ci sia c'è il google home ho preso google home mini non sei contenta alexa non sarai mica gelosa no non ti preoccupare ebbene sì anch'io ho pensato di acquistare google home mini ma per quale motivo tantissimi di voi nei commenti mi avete scritto poderak ma è meglio alexa o google home puoi farci un confronto puoi farci un tutorial su come funziona questa cosa su google home per rispondere a tutte queste domande ho dovuto per forza di cose comprarmi uno di questi dispositivi di google e devo dirvi la verità è stato difficile trovarlo perché online si trova a prezzi assurdi oppure si trova out of stock però sono riuscito a trovare un negozio che me lo vendeva ad un prezzo onesto più o meno 29 euro e allora ho pensato di acquistarlo e di portarvi prima o poi qualche video riguardo anche google home è in italia da molto più tempo rispetto ad alexa quindi un confronto un qualcosa ci sta quindi non vi preoccupate non tradirò alexa o almeno credo e direi di avvicinare la webcam così facciamo un bel unboxing beh la confezione non è male ci dice un po di informazioni che cos'è un assistente vocale cosa gli possiamo chiedere e ci dice anche alcune applicazioni disponibili tipo spotify youtube netflix google chromecast le philips eccetera eccetera non perdiamoci troppo in chiacchiere e rompiamo un po' questa pellicola per vedere se magari anche il contenuto più più completo magari di alexa chi lo sa ok pellicola tolta e vediamo un po come si apre ok per aprirlo dietro c'è una linguetta ok olè e si apre in questo modo vediamo già il nostro google home mini bianco ci sono anche altre colorazioni tipo arancione una roba del genere io ho preso bianco perché il classico anzi in realtà non è proprio bianco è un grigio è un grigio sì più o meno continuando con l'unboxing cosa troviamo troviamo un iniziamo di google c'è scritto collegalo all'alimentatore scarica l'app google home e dopo segui le istruzioni su schermo scopri il tuo google home mini ci dice alcuni comandi che gli possiamo chiedere ok stai al sicuro qua penso è la garanzia e mettiamola da parte per quanto riguarda il cavo abbiamo un cavo micro usb è piuttosto carino c'è la g di google qua e poi dentro non c'è niente quindi diciamo in termini di contenuti sono piuttosto simili mentre scarica l'applicazione vediamo di connettere il tutto ok e vediamo se fa qualcosa già si sono accesi due led tipo 3 4 ok sta facendo qualcosa vediamo l'applicazione invece ok è molto leggera e mi dice tuo dispositivi contenuti preferiti nello stesso pro inizia collego il mio account martino ok inizia con una canzoncina ti diamo il benvenuto in google home per iniziare scarica l'app google home su un telefono o tablet ok e lo sto facendo non ti preoccupare consenti diamogli l'accesso all'applicazione vuoi configurare un nuovo dispositivo si adesso sto facendo una ricerca del mio google home qua è diventato tutto ah quindi qui è tipo un led rgb per quanto riguarda i tasti cosa abbiamo ok possiamo disattivare fisicamente il microfono hai sentito il suono si ho sentito il suono vuoi contribuire a migliorare si dai accettiamo la stanza direi camera da letto tra virgolette la metto lì si dai colleghiamola alla rete del mio wifi ok perfetto si è configurato meno di due minuti come con alexa che mi dice insegna la tua voce però lo faremo dopo mi dice che posso aggiungere spotify servizio gratuito disponibile quindi immagino che posso utilizzare spotify gratis posso utilizzare anche youtube music con la prova gratuita un altro servizio io direi di aggiungere spotify ok adesso sta installando l'aggiornamento e dovrebbe essere pronto richiede l'aggiornamento circa 4 minuti un po' come alexa uguale ok adesso sta facendo altri rumorini penso mi stia dicendo che sta per completare l'aggiornamento ora è pronto continua ciao sono il tuo assistente google e sono qui per aiutarti per scoprire alcune delle cose che puoi fare prosegui nell'app google home ok altro ok posso dirgli che tempo fa termina configurazione mi vuole mostrare un video niente quindi è pronto ok google come stai sto molto bene grazie per avermelo chiesto ok qualcosa che posso fare per te no grazie ok perfetto che adesso che è pronto potrei già configurarlo magari con la lampadina qui che ho montato l'ultima volta ma prima di salutarci facciamo delle domande a questi assistenti vocali ok google conosci alexa alexa ha una voce così rilassante la adoro cosa vuoi sapere niente va bene va bene così va bene così e dai è stato piuttosto sincero vediamo alexa cosa ci risponde alexa conosci google home solo per sentito dire lei è un po' più fredda su questo diciamo non ama tanti concorrenti beh io direi adesso che vado a giocare un po' con questi assistenti vocali e vi farò sapere come mi trovo magari con google home con alexa non vi preoccupate arriveranno tanti video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace iscrivetevi per non perdere i prossimi video seguitemi su facebook instagram telegram e noi ci vediamo alla prossima ciao